Ciao a tutti ragazzi Questa è la Whisper Challenge Questa è la Whisper Challenge Com'è che si chiama? Si chiama Ma c'è il tuo nonno Io non so il nome No, è il telefono di casa È una challenge Oddio È una challenge dove dobbiamo assaggiare Ma devi dire ancora ciao Ma hai detto mister challenge Ciao a tutti ragazzi Ciao E questo è un nuovo video Se non l'avete capito ve lo dico io E questa è una challenge che non mi ricordo il nome Che praticamente Io queste due Si queste due si bendano Io preparo qualcosa Con queste E poi viceversa E loro devono assaggiare con le bende E dimmi se è buono o meno E indovinare che cosa sarà buono Io non ho dubbi su questo Il vendato Forse incominciamo Ma pure come si rovina il trucco Ho commesso due anni È buono Allora vi dico solo che è commestibile Vabbè Sento solo Ditemi credi che cosa so Ma che cazzo è sta roba C'è l'aceto di meni con la coca cola Che schifo Allora due le avete indovinate No io vomito Ma si fa troppo schifo No Nutella Si esatto Ci sono i glitterini Ma quelli ci sono i glitterini Poi E la cannella Si Verica Manca uno Verica ma tu l'hai assaggiato almeno Chi dice prima che cosa manca Vince Questa sfida Oh beccato le nutella Che cosa sono? Che cos'è? Allora L'aceto di mele è l'unica cosa che ho sentito Mele Coca cola No basta Per favore Io mi arrendo Ok Ma non ci vedo niente Che brutta cosa Che cosa? Non l'avete detto? Il miele Il miele Quello che sapeva di Marcio Per terra Il miele No no Questi qui li teniamo per souvenir O No 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 Volete vederlo? Non so se si vede Si si vede Vai Il suo ketchup Nella Coca cola Oppure la maionese Ma dove sei? Cioè io ve l'ho risparmiato questa ragazza Nel mio Vi ho messo anche la nutella Oh che dolce Io non ho messo Ragazza Cannella Allora ketchup Hai messo la maionese? No ketchup Non lo voglio assaggiare No è ketchup No è maionese amici? Si maionese Coca cola Maionese Cannella Mi mancano altre due cose Mi sta venendo sullo sbocco C'è rosmarino? No Il pepe Si Dacci un indizio È dolce Mi hai letto Vuoi togliere? Dai il tuo però faceva Meno schifo No Ah si perché non mi faceva più schifo di questo Cazzo Madonna io sto per puntare Ma vi tentate o no? Ah si Ma giusto Allora tranquilla Incomincia l'incuba Ma mi stai a far me la verità Non avevi idea della mia felicità in questo momento Dai affaggiate Ma quanto è pieno? La cannella La coca cola sicura L'aceto di mele Si Si L'aceto di mele Ste cose sembrano origo no? Si Poi No aspetta non è origano no Maionese? Si Ketchup Si Laci moscate No Miele? No Mancano due cose Pepe Non c'è miscata Si Pepe Ne ha messo due quintali Pepe Quindi Che rendete ho vinto io quindi Si in pratica Si Ho vinto tu Se ci rendiamo Stiamo arrendo Guarda Era quello di Ma cosa è? Dopo te lo dico C'è prezzemolo C'è prezzemolo Vero? Si Va a far pulare Che schifo Io mi sono mangiato Sta roba Mi sono mangiato Veramente Sta roba Grazie Mi fanno così Ok Allora Vi salutiamo tutti quanti Dalla piccola Sara Dall'Anna Con i capelli rossi E dall'incognita Sì Ecco Questo era un saluto Si Era un saluto Ciao Ciao